Ciao a tutti, vediamo come fare la domanda sull'Inps per richiedere il bonus psicologo. Allora, partiamo dalla home page dell'Inps, quindi andate su imps.it. Chiaramente fate l'accesso, ok? Una volta che avete effettuato l'accesso, andate qua su prestazioni e servizi. Aprite, andate su servizi. Da qua potreste filtrare ciò che ci interessa, che è punto d'accesso alle prestazioni pensionistiche. Provo a copiarlo, ma potrebbe non trovarmelo, quindi ordine alfabetico, servizio, filtra, perfetto, qua me l'ha trovato. Nel caso, aggiorniamo un attimo questa pagina, che cosa dovete fare? Vi spostate su ordine alfabetico, ecco qua. Potete copiare o scrivere punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, altrimenti andate semplicemente, fatemi togliere questo filtro, andate sulla P e cominciate a scorrere fino alla fine. Vedete qua, dopo un po' che scorrete, ve li carica, e poi qua in fondo c'è ciò che vi interessa, ovvero punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. Voi aprite, da qua scendete, e vedete già la bozza che stavo facendo prima per il tutorial, non interessa contributo, sessioni, psicoterapia. Quindi scendete, non sulle ultime domande, ma sulle prestazioni, vedete? E qua c'è contributo, sessioni, psicoterapia. È quello che ci interessa. Fate semplicemente accedi. Da qua fate poi compila domanda. A me chiede se voglio fare una nuova domanda, o voglio riprendere la compilazione. A voi vi manda semplicemente su una nuova domanda. Quindi io riparto da qua, e qua comincia la domanda per il bonus psicologo. Quindi da qua dovete semplicemente compilare la domanda, andare avanti, avanti, avanti con tutti i dati che vi servono, finché non avete finito. Dopodiché inviate la domanda, e dovrebbero poi comparire, annulliamo un attimo la compilazione, abbandona, dovrebbe poi comparirvi la domanda, qua, come mandata. Quindi le mie ultime domande, contributo, sessioni, psicologia, presentata il, eventualmente ultima variazione, stato, dovrebbe essere mandata, completata, o quello che è. Va bene? Questo è quanto. Se avete bisogno di altri guido tutorial su come utilizzare i servizi Sims, vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!